secondo episodio della storia di ivan lo stupido il vecchio diavolo si irritò enormemente per il fatto che i tre fratelli non avessero litigato per la spartizione dei beni paterni e che invece se li fossero divisi amichevolmente per questo motivo convocò la sua presenza tre diavoletti sentite un po disse loro ci sono tre fratelli semmione il soldato taras il panciuto e ivan lo stupido dovrebbero litigare in continuazione e invece vivono in pace in amicizia quello che chiamano ivan lo stupido mi ha rotto le uova nel paniere voi dovete andare sul posto e dovete fare in modo di provocarli affinché si strappino gli occhi a vicenda siete in grado di portare a termine un lavoro del genere certo che sì risposero i diavoletti e come pensate di agire per prima cosa li rovineremo finanziariamente e quando non avranno nient'altro da rosicchiare oltre alle loro ossa li metteremo insieme allora cominceranno a darsi battaglia benissimo vedo che conoscete il vostro lavoro che lo fate bene ora andate e non tornate fino a quando quei tre non saranno ai ferri corti o sarà peggio per voi vi spellerò viti i tre diavoletti si recarono in un pantano per stabilire come operare pensarono e ripensarono e ognuno di essi progettò di ottenere il compito più facile alla fine decisero di tirare a sorte per stabilire quale fratello spettasse a ciascuno e che chiunque finisse per primo avrebbe dovuto andare in aiuto degli altri tirarono a sorte e stabilirono un altro appuntamento nello stesso posto per vedere chi aveva portato a termine il proprio compito e chi aveva avuto bisogno di aiuto il giorno convenuto i tre diavoletti si ritrovarono nel pantano e cercarono di spiegarsi l'un l'altro come stavano andando le cose il primo diavoletto parlò di semion il soldato il mio lavoro sta procedendo abbastanza bene disse domani semion andrà a casa del padre i suoi compagni cominciarono a porgli delle domande e come ci sei riuscito gli chiesero beh la prima cosa che ho fatto è stata quella di infondergli quel coraggio con cui aveva promesso allo zar che avrebbe conquistato il mondo intero in suo nome poi ho indotto lo zar a nominarlo comandante in capo e a spedirlo a combattere contro il re dell'india i due si sono incontrati sul campo di battaglia ma durante la notte io ho inumidito tutta la polvere da sparo dell'esercito di semion poi mi sono recato dal re indiano e ho reso coraggiosi i suoi soldati quando l'esercito di semion ha visto avanzare i soldati del re indiano attentennato ha avuto paura semion ha ordinato il fuoco le armi da fuoco il cannone non hanno sparato i suoi soldati tremendamente impauriti se la sono data a gambe elevate e il re indiano con le sue truppe li hanno circondati e massacrati completamente ora semion il soldato è caduto in disgrazia la sua rendita gli è stata portata via e domani hanno intenzione di giustiziarlo devo fare soltanto un'ultima cosa lasciarlo scappare di prigione in modo che possa curare a casa del padre per domani credo che il mio compito sarà terminato adesso ditemi un po chi di voi ha bisogno d'aiuto fu poi la volta del secondo diavoletto ad escrivere il suo lavoro su taras io non ho bisogno d'aiuto disse perché anche il mio lavoro sta procedendo abbastanza bene taras non resisterà più di una settimana la prima cosa che ho fatto è stata quella di allargare il suo ventre di provocare la sua invidia è diventato tanto avido che qualsiasi cosa vedesse desiderava comprarla ha speso tutto il suo denaro ha comprato una grande quantità di cose e continua a comprarne adesso prende i soldi a prestito per comprare tutto quello che desidera è talmente oberato di debiti che non credo riuscirà mai più a liberarsene tra una settimana scaldranno i termini dei vari versamenti ma io trasformerò tutti i suoi beni in letame e quando non riuscirà a pagare sarà costretto a ritornare alla casa paterna allora i due diavoletti che avevano già parlato si rivolsero al loro collega per sapere qualcosa di più su ivan lo stupido e come vanno le cose col tuo ragazzotto gli chiesero incuriositi il mio lavoro non va tanto bene per prima cosa gli ho fatto ingurgitare una bella quantità di kvas provocandogli un tremendo mal di pancia poi mi sono recato sul suo campo e ho pestato il terreno fino a quando è diventato duro come una pietra in modo che non fosse capace di lavorarlo non pensavo che avrebbe cercato di ararlo ma lui lo stupido si è presentato col suo aratro di legno e ha cominciato a fare un solco si lamentava in continuazione per il tremendo mal di pancia che gli avevo procurato ma continuava ad arare allora ho avuto un'idea gli ho rotto l'aratro e lui è andato a casa ne ha preso un altro e ha continuato ad arare allora sono strisciato sottoterra e mi sono afferrato al vomere ma niente da fare lui ha continuato a lavorare di buona lena e il vomere era anche tagliente per cui mi sono coperto di taglia le mani ha arato quasi tutto il campo mi è rimasta da fare soltanto una piccola striscia su via fratelli aiutatemi voi dato che sono parecchio avvilito piagnucolo il diavoletto e ricordatevi che se non riusciremo a nientarlo tutto il nostro lavoro andrà in fumo se quello stupido persiste nel voler coltivare la sua terra i suoi fratelli non conosceranno mai cos'è la ristrettezza economica perché sarà lui a fornire loro il cibo il diavoletto di semino il soldato promise di correre in suo aiuto il giorno dopo e i tre si divisero